Signori, ben ritrovati. Allora, Sanchez ai saluti, meglio tardi che mai però a questo punto cosa posso dire? Sinceramente sarebbe stato meglio un suo addio molto prima e ovviamente l'entrata di Dybala o un eventuale Dries Mertens che comunque secondo me, io ho detto nell'ultimo video che mi sarebbe piaciuto vederlo all'Inter, chi non si è piaciuto vederlo però chiaramente era fantamercato, indubbiamente era fantamercato, però che cosa dire, si libera uno spazio per l'ingaggio sinceramente sono anche tra virgolette abbastanza contento perché diciamo che era una riserva di molto, di lusso 7 milioni in panchina per un giocatore che comunque sì, ti ha fatto vincere un trofeo, è stato decisivo quella volta lì in Supercoppa e poi sinceramente forse ho le conti sulle punte delle dita o comunque ci sono stati proprio degli episodi clamorosi anzi si ricordano molte cavolate anche nel derby del pallone perso lì poi dopo dove è nato il gol del Milan del vantaggio dopo lì si può discutere che sia fallo o no, l'80-90% delle persone dice che non era fallo ma questo è un altro discorso, questo indubbiamente è un altro discorso, quindi Alexis Sanchez forse un po' croce delizia in questi anni sicuramente un Alexis Sanchez che non rispecchia quello che è stato all'Udinese, al Barcellone, all'Arsenal, ovviamente è venuto un Alexis Sanchez forse deficit fisico sarebbe troppo esagerato dire una cosa del genere probabilmente un Alexis Sanchez, ce lo dobbiamo dire, a fine carriera, non dico che è venuto a svernare però insomma prendeva la metà di quello che prendeva al Manchester United ma sempre 7 milioni all'anno erano ricordiamo che quello che ne prende di più era e adesso è tornato ad essere Romero Lucca ha Q con 8, 8 e mezzo, quelli che sono al netto parlo, quelli che sono insomma dopo io non sono, ripeto, non sono un esperto di mercato e non sono un contabile, non sono un economista non sto dietro queste cose, quindi questo è il quanto, ripeto, diciamo che se fosse alto via prima se fosse entrato un Paolo Di Bala staremmo tutti qui a parlare di tutt'altro scusate la ripetizione, staremmo parlando ovviamente di un'altra cosa quindi adesso da qui a fine agosto c'è praticamente un mese il mercato purtroppo è ancora lungo chi mi conosce sa che, sì c'è un caldo allucinante ragazzi, vi chiedo scusa chi mi conosce da tempo, da tempo, sa che il mercato lo soffro particolarmente perché comunque ti può regalare tante gioie ma ti può regalare anche tanti dolori come l'anno scorso, quest'anno è stato un mercato un po' figlio delle occasioni un mercato che ci ha regalato una gioia immensa per chi la vede in una certa maniera, poi chi la vede nell'altra forse gli ha regalato un dispiacere addirittura sto parlando del ritorno di Romero Lukaku poi dopo, vabbè, non sono acquisti di contorno certo Mkhitaryan, Aslany e compagnia cantante però sicuramente sono passati in secondo piano rispetto al ritorno di Romero Lukaku quindi è un po' anche quasi complicato definire questo mercato dell'Inter fino a finora indubbiamente per me è stra positivo per il ritorno di Big Rom però sì, bisogna anche capire il momento in cui siamo io lo ripeto a Stefano, alias Steven, alias Stefano quando c'è da dargli il bastone gli do il bastone quando c'è da dargli la carota gli do la carota e quindi poi dopo il futuro societario quello sarà un altro discorso ancora ora vedremo cosa succederà perché poi c'è anche la questione del Fondock 3 e quant'altro ma stiamo coi piedi per terra perché comunque il Milan si è rinforzato prendendo De Ketteler si, ha perso che sì però secondo me è un buon giocatore secondo me questo De Ketteler può diventare un buonissimo giocatore invece a detta di molti lo stanno già un po' sfottendo poi solo il tempo ci dirà chi avrà ragione o meno la Juve comunque nonostante la grana Pogba ritroverà chiesa a Vlaovic davanti a Di Maria che se anche ce l'ha solo per quest'anno intanto ce l'ha e poi da qui alla fia del mercato bisogna vedere poi anche chi prenderanno ancora Napoli ha perso molto però vabbè Napoli non lo vedevo nella corso scurretto l'anno scorso figuriamoci quest'anno e la Roma comunque torna in lista per essere una delle strafavorite per tornare in Champions League ovviamente con Di Bala e gli altri acquisti che ha fatto adesso non so se a Vainaldum c'è un accordo l'hanno già preso o prenderanno anche a Vainaldum se prenderanno anche a Vainaldum tanta roba e quindi è molto equilibrata la situazione più o meno come l'anno scorso l'anno scorso si davano sempre Inter e Juve favorite quest'anno più o meno la Sinfona è questa qua indubbiamente c'è il Milan che parte anche favorito perché è campione d'Italia ha fatto vedere che con insomma non dei fenomeni però con un un pacchetto di buonissimi giocatori di grandi giocatori unito unito a tanti giovani ha fatto quello che ha fatto quindi piccola analisi piccola analisi serale post piadina post piadina Stefano mi raccomando non facciamo cazzate perché adesso sono un po' sono un po' fermo però anche sul tiktok voglio voglio ricominciare poi adesso fra due settimane meno di due settimane comincio il campionato poi lì c'è tutto quello che vi ho detto nei video precedenti quello che ho in mente quello che voglio fare e niente questo è un po' la versione dei fatti la mia su su Sanchez diciamo che non è che io non ce l'ho mai avuta con lui però 7 milioni in meno di ingaggio lì in panchina con delle dichiarazioni anche che che si poteva si poteva risparmiare un utile non così esaltante a livello di di prestazioni cioè sinceramente grazie e rivederci grazie e rivederci e parla un grande stimatore di Sanchez perché quando è arrivato io ero stracontento innamorato del vecchio Sanchez quello dell'Udinese quello del insomma è così signori like iscrivetevi fate quello che volete commentate se vi piace il calcio e soprattutto se siete difusi dell'Inter ciao a tutti